Il Gaphatha Perchè Scopo 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 ma che cosa vuoi? 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 che tuo fratello diceva lì che cosa vuoi? che cosa vuoi? che vuoi? che vuoi? io non parlo che vuoi? che vuoi? a chi? che vuoi? che vuoi? ok io io basta non ti vai a prendere io 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 a quando a me? a quando a me? a quando a me? a quando a me? e dì, dì cosa ho detto e non voglio parlare io, aspetta c'è il sciamano, c'è